TecnoLine System inventa SpeedyO. Il suo utilizzo è estremamente semplice. Basta posizionare SpeedyO, attaccare il potente biadesivo, posizionare la comunicazione preferita su pareti di qualunque materiale, all'interno e all'esterno delle pareti di vetro. Il fissaggio e la tenuta saranno perfetti e di lunga durata, con targhe e cartelli di qualunque forma e dimensione e ti permetteranno di modificare la tua comunicazione infinite volte. In meno di un minuto sarà possibile fissare le targhe a muro in completa autonomia. Posizionate la vostra comunicazione utilizzando SpeedyO con biadesivo. Togliete la molla interna e procedete al foro della parete attraverso un trapano. Inserite a fondo il fissure nel tassello e introducete il filettato aiutandovi con un cacciavite. Non vi resta che reinserire la molla? Ed ecco che SpeedyO sarà pronto a sostenere ben 2,8 kg di peso.